Ed eccoci sulla Brutale, a differenza della F4, è disponibile in due versioni, la 990R e la 1090RR, la prima in vendita a 15.700 euro, l'altra con un sovrapprezzo di ben 3.000 euro. Caratteristiche tecniche, le valvole radiali, il controllo di trazione e sempre nella zona motore i cornetti di aspirazione a lunghezza variabile. La moto è stata rivista a livello di design, un design famoso in tutto il mondo, figlio della matita di Massimo Tamburini, ma adesso reinterpretato dallo staff di Adrian Morton.